Come iniziare la propria avventura nel magnifico mondo di Lorcana? Quale lato di questo TCG converrà approcciare? E il processo risulterà dispendioso? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Da quando Lorcana ha iniziato a calcare i tavoli da gioco, moltissimi sono stati curiosi che mi hanno personalmente domandato, ma se volessi cominciare con Lorcana, da dove dovrei iniziare? Ebbene, come per ogni TCG che si rispetti, i lati da prendere in considerazione saranno tre, collezionista, giocatore ed entrambi, ed in questo video comprenderemo come approcciarsi ad ognuno di loro nel migliore dei modi. Prima di continuare, se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, così crescendo potrò portare sempre più contenuti interessanti e ricercati dedicati allo sconfinato universo dei TCG. In più in descrizione troverete anche i link che vi riporteranno al profilo Instagram, dove pubblicherò storie per aggiornarvi su nuove uscite, molto altro ancora, e alla pagina Facebook. Grazie infinite per il supporto, torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme come approcciare il TCG targato Disney a seconda delle vostre esigenze. Andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo con il settore più popolato. Collezionare le carte di Lorcana vedrà mille aspetti, ed uno migliore dell'altro. Qui potrete concentrarvi su un singolo classico. Ad esempio, focalizzarsi unicamente sui personaggi della Bella e la Bestia, la Carica dei 101, le Follie dell'Imperatore, il Re Leone, Biancaneve e via dicendo. O addirittura su un solo personaggio di un'opera, tipo Hercules, Ade, Bella, Trilly, Peter Pan, con tutte le loro varianti. O ancora alzare il tiro andando verso orizzonti più vasti, come ad esempio l'intero set dalla 1 alla 204. Ho creato un contenuto che ne parla e che potrete trovare nella scheda appena apparsa in questo momento, aspirando addirittura al Master Set, dove oltre alle carte regolari ci saranno anche le controparti foil con tutte le encianti dannesse. Una bella missione da svolgere che richiederà molto impegno e soprattutto molti fondi. In ogni caso, la scelta non sarà la stessa, ovviamente. Se vorrete collezionare solo alcune carte, il mio consiglio sarà quello di acquistare direttamente le singole, per salvaguardare i vostri sforzi economici. I siti Car Market, Car Trader e il reparto di vendita al dettaglio di Fantasia Store risponderanno nel migliore dei modi alle vostre richieste. Mentre se l'intenzione sarà quella di collezionare il set o masterarlo, i box vi forniranno un aiuto non indifferente. Quello che vi consiglio di fare è acquistarne almeno due per avere una solida base di partenza, per poi recuperare quel che manca singolarmente, così da completare la raccolta nel minor tempo possibile. Ma attenzione all'errata, perché con la ristampa ci saranno delle differenze non solo a livello di packaging, ma anche a livello di carte. Se vorrete un video dedicato in merito, fatemelo sapere nei commenti. E se voglio solo giocare, Arconte? Per tutti i nuovi luminari che vorranno intraprendere la loro avventura nel magico mondo di Lorcana, ci saranno gli Starter Deck, che non solo forniranno un mazzo pronto all'uso in grado di catapultarvi immediatamente tra le meccaniche di questo DCG, ma vi permetteranno di imparare le dinamiche del gioco testando con mano la struttura di quest'ultimo. Anche qui la dritta è quella di scegliere un paio di inchiostri che magari andranno a formare l'archetipo di deck che più si adatterà al vostro stile di gioco, scegliere di seguito lo Starter che avrà più elementi da utilizzare nel deck che vorrete adoperare e recuperare tutto il resto dal mercato secondario. Per ovviare a spese inutili, inoltre esisteranno i bundle, che comprenderanno i primi tre prodotti iniziali di The First Chapter e i secondi due appartenenti a The Rise of the Floatborn, a prezzi davvero vantaggiosi. In descrizione vi lascerò ogni singolo link così da rispondere alle esigenze di qualsivoglia appassionato. Scusa Arconte, ma se voglio acquistare i box invece che le singole, liberissimi di farlo. Il contenuto di oggi è volto a salvaguardare il più possibile le finanze di ogni nuovo collezionista o giocatore e dovrà essere preso per quello che è, un semplice insieme di consigli. Starà a voi poi seguirli o meno, ed in ogni caso andrà più che bene. L'ultima parola spetterà solo ed unicamente a voi. Per chi invece vorrà sia giocare che collezionare, la combinazione dei due aspetti sarà la scelta migliore, con un occhio rivolto anche perché no ai prodotti fuori linea come il Trove, sempre se riuscirete a trovarne uno a buon prezzo, e soprattutto a trovarne uno, e i gift set che per ogni espansione rappresenteranno un buon approdo per iniziare la vostra avventura come collezionisti. Concludendo, l'Orcana è un TCG ancora molto giovane, e consiglio a chiunque voglia iniziare a muovere i primi passi nello sconfinato universo dei TCG di provarne lo stile di gioco. Per me, il prodotto targato Disney è e sarà il primo punto di contatto tra Curioso e GCC, a meno che non ne arriverà uno nuovo ancor più semplice da imparare. Se siete quindi dei nuovi illuminatori che vogliono addentrarsi tra le nebbie e del tempo con l'intenzione di esplorare questo gioco di carte collezionabili in ogni suo aspetto, avrete articoli che vi verranno in aiuto, realizzando qualsiasi desiderio avrete in mente, così da garantirvi un'esperienza ludica e indimenticabile al fianco dei vostri eroi Disney preferiti. E voi a quale lato di questo TCG appartenete? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento, prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video!